Quanta autostima ti ha dato a San Siro? E' comunque un punto contro la squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato. Per noi l'autostima ce l'aveva già data comunque anche le partite prima perché anche se abbiamo perso contro il Milan abbiamo pareggiato comunque col Sassuolo che è una grande squadra per cui siamo consapevoli della nostra forza. Sicuramente il punto con l'Inter ci ha dato una spinta morale ancora in più e ieri infatti è arrivata a prima vittoria. Tu personalmente ti aspetta una chiamata da mister Mancini? No, io continuo a pensare a fare il mio lavoro al massimo. In questo momento non credo di meritarmi la convocazione. Poi vedremo più avanti.